Siamo arrivati con uno strappo di un bus Il punto di partenza Dobbiamo percorrere questa strada Fino a sopra Allì come si vede In fondo c'è una piazza Dobbiamo trepassare la chiesa a quella montagna E andare là per arrivare a casa La vecchia popolazione Pestumiana Ovvero di Poseidonia Pestana Ovvero di Poseidonia Anticamente Insediò le proprie radici Su questo Siamo Su un sentiero Posso dire molto Scusso è sceso Abbiamo un'ambientazione Dallo stile film Lady Hook Ecco il genio che si avventa In una scalata E' già Sei in real time Real TV Come scapezzi pure Ecco un ega Salute 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 salute